la sulcitana è un ristorante che propone ai propri clienti pesce freschissimo preparato con grande sapienza e nel rispetto della tradizione locale si trova presso il lungomare cristoforo colombo 66 a sant'antioco è possibile consumare il pasto sia all'interno nell'ampia e attrezzata sala sia all'esterno dove si possono gustare le sfiziose specialità a pochi passi dal mare della laguna fritto misto pesce a rosto crostacei e molluschi questi i cibi che da sempre attirano turisti e abitanti locali in questo ristorante storico la sulcitana cantice inoltre ai propri clienti anche il servizio da sport